Nel corso del weekend i carabinieri del nucleo operativo comandati dal luogotenente forte Giuseppe hanno condotto una serie di controlli su strada attesi al contrasto dei reati di larga diffusione ed in tema di spaccio di stupefacenti. Nel corso delle operazioni sono stati tratti in arresto due persone, un cittadino italiano classe 87 ed un marocchino classe 81. Gli uomini della compagnia carabinieri di Sapri infatti riuscivano ad individuare i due a bordo di una Fiat Punto lungo la strada provinciale 430. Dopo vari tentativi per arrestare la loro corsa durante i quali gli stessi tentavano di disfarsi di un involucro in loro possesso, i militari dell'arma riuscivano però a bloccarli all'uscita di Centola, recuperando inoltre quanto avevano gettato. Un panetto di hashish dal peso di 150 grammi e alcune dosi di cocaina del peso di 5 grammi. Le successive perquisizioni consentivano di rinvenire anche materiale utile al confezionamento delle dosi. Entrambi venivano dichiarati in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente collocati in regime di arresti domiciliari presso le proprie abitazioni in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria. Ieri su Rai3 Servizio Pubblico abbiamo assistito alla messa in onda di uno scadente compitino propagandistico, incomprensibile e ingiustificatamente livoroso. La ragione critica è stata sacrificata in favore del pregiudizio dei luoghi comuni più odiosi. È stata confezionata d'arte, un'immagine della città e dei cittadini offensiva e proditoria. La verità ha lasciato il posto ad una violenta aggressione condotta con le modalità tipiche di una categoria di giornalismo votato ad arte alla disinformazione. Salerno è una città moralmente sana, orgogliosa e soprattutto libera, distante abissalmente dall'immagine falsa e caricaturale creata in laboratorio per fini fin troppo evidenti. Noi continueremo con onore il nostro lavoro di amministratori onesti e operosi, pronti a recepire le critiche anche severe, se intellettualmente e moralmente oneste e soprattutto rispettosi del mandato ricevuto con oltre il 70% dei consensi. Lo scrive in una nota il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli. Salerno offesa. Vincenzo De Luca si scaglia contro il programma Fuori Roma condotto da Concita De Gregorio. È andato in onda ieri sera e che ha dedicato a Salerno la puntata. Dopo anni e anni di aggressioni, sempre dalla stessa rete pubblica, abbiamo assistito, scrive sui social il governatore della Campania, all'ennesimo atto di squadrismo mediatico, l'ennesimo stravolgimento della realtà. Interverremo in tutte le sedi, ha tuonato il governatore su Facebook. Nel programma si parlava della città e del sistema di potere De Lucchiano, i cui destini si sono intrecciati negli ultimi 25 anni. Intervistati tra gli altri lo scrittore Diego De Silva, la cantante Teresa De Sio, l'antropologo Paolo Apolito, lo storico Isaias Sales e Lorenzo Forte, presidente del Comitato Salute e Vita contro le Fonderie Pisano. De Luca narra alla voce del giornalista nel reportage, è diventato signore padrone di un feudo che oggi governa dalla poltrona di presidente della regione, lo dice Isaias Sales. E ognuno, da Diego De Silva, Paolo Apolito, da Teresa De Sio, a Lucia Tronchetti, da Lorenzo Forte, ad Aurelio Tommasetti, raccontando un pezzo di città traccia il volto di una Salerno malinconica come le poesie di Alfonso Gatto, e spaventata dalle ombre reticente. E' stato il marocchino Josef Aish dell'Associazione Podistica e Laghetto a vincere con il tempo di un'ora, 8 minuti e 12 secondi, la diciannovesima edizione dell'Agropoli Half Marathon, che si è tenuta ieri mattina ad Agropoli. La manifestazione, organizzata da Roberto Funicello, dall'ASD Libertas Agropoli, con il patrocinio del Comune di Agropoli, ha visto salire sul secondo scalino del podio Marco Piccolo, un'ora a 10 minuti e 32 secondi. Terzo classificato Alberico Di Cecco, un'ora a 10 minuti e 33 secondi. Per le donne, primo posto per un'altra marocchina Malika Ben Lafkir, ASD Caivano Runners. Con il tempo di un'ora a 17 minuti e 7 secondi. Secondo posto per Anan Yanath, un'ora a 23 minuti e 2 secondi. E terzo posto per l'italiana Marina Lombardi, un'ora a 23 minuti e 58 secondi. Oltre miglia gli atleti partecipanti intervenuti da ogni parte d'Italia e quest'anno anche dall'estero, Germania e USA. Per partecipare alla gara che si svolge su un percorso di 21,97 chilometri, omologato e certificato dalla FIDAL, estremamente suggestivo tra le bellezze di Agropoli e il fascino dell'area archeologica di Pestum. A premiare gli atleti, il sindaco del comune di Agropoli, Adamo Coppola, il vice sindaco di Agropoli, Elvira Serra, l'assessore alla pubblica istruzione e politiche giovanili, Rosa Lampasona, l'assessore al bilancio, Roberto Muta Lipassi, il vice presidente nazionale FIDAL, Enzo Parinnello. Una bella giornata di sport per la nostra città, hanno dichiarato il sindaco Adamo Coppola e gli altri componenti della giunta, per un evento di forte richiamo che ha visto quest'anno la partecipazione di atleti provenienti anche dall'estero. Una manifestazione in costante crescita che è un ottimo modo per far conoscere le bellezze della nostra città, quindi da sfruttare in chiave turistica. Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, in collaborazione con l'Associazione Assaggiatori Associati, con il contributo alla partecipazione dei comuni del parco, promuove la prima edizione del Premio Nazionale Primula Olei, riservato agli oli extravergine d'oliva prodotti nelle aree protette italiane, che si terrà nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Il premio ha come finalità la valorizzazione degli oli extravergine d'oliva prodotti nelle aree naturali protette italiane, la sensibilizzazione di tutta la filiera produttiva per il miglioramento della qualità dell'olio e la giusta valorizzazione delle professionalità operanti nel settore dell'analisi organolettica degli oli di oliva vergini, nonché di contribuire alla piena attuazione dei regolamenti cie che disciplinano la materia. I campioni saranno sottoposti al giudizio di una qualificata giuria costituita da assaggiatori professionisti coordinati dall'Associazione Assaggiatori Associati. I vincitori si fregeranno della Primula Olei d'Oro, della Primula Olei d'Argento e della Primula Olei di Bronzo, oltre alle menzioni di merito speciali. Una Primula Olei d'Oro sarà assegnata all'azienda produttrice ubicata nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, il cui campione avrà ottenuto il miglior punteggio. Il termine ultimo per la presentazione dei campioni è martedì 10 aprile 2018. In data 11.03.2018 è stata costituita a San Giovanni Appiro l'Associazione Culturale Artistica di Artigiani ad Arte, allo scopo di promuovere l'artigianato locale ed in particolare quello della nostra amata terra cilentana. L'associazione unisce persone provenienti da vari comuni del Cilento, tutte accomunate dallo stesso interesse e dalla stessa passione per l'artigianato, per l'arte ed anche dall'amore viscerale profondo per la nostra terra. I soci si sono prefissati anche l'ulteriore fine di creare opportunità di lavoro non solo per se stessi, ma anche per i tanti giovani che, disgraziatamente, si vedono costretti a lasciare questo angolo di paradiso per cercare lavoro e realizzazione personale in terre lontane. Quindi lo scopo associativo ha anche degli importanti risvolti sociali ed occupazionali. Nel corso dell'Assemblea, tenuta in data 17.03.2018 a San Giovanni Appiro, sono stati eletti i membri del Consiglio Direttivo che occupano le cariche principali nell'ambito del direttivo stesso. Sono stati eletti il Presidente, la signora Marilena Fiore, Vice Presidente, la signora Giovanna Miele, tesoriera alla signora Luigina Magliano, segretario, avvocato Ciro Ing-Marcusati e portavoce ed addetta alla comunicazione la signora Samantha Iudici. Grande soddisfazione è stata espressa dalla neoletta Presidente signora Marilena Fiore. Oltre a voler promuovere l'artigianato dei nostri paesi, pieni di talento spesso inespresso, ci siamo prefissi lo scopo di creare opportunità occupazionali per i giovani del nostro territorio, onde gli stessi non siano obbligati ad emigrare per forza, ma ritrovino l'entusiasmo e la fiducia nei luoghi meravigliosi del nostro cilento, che non debbono spopolarsi né estinguersi. Concetti simili espressi dalla Vice Presidente signora Giovanna Miele. Sono molto soddisfatta perché, dopo tanti mesi di incontri, preparatori e di lavoro, siamo riusciti a creare questa associazione, la cui idea è nata nell'estate 2017, quando insieme alle amiche Marilena e Samantha, durante i tanti giri per i mercatini e le manifestazioni, abbiamo iniziato un percorso che ha trovato il suo splendido coronamento proprio nell'Associazione ad Arte, che abbiamo costituito insieme ad altre amiche e ad amici che credono nell'artigianato e nella sua funzione sociale e culturale. Ora i soci si pongono lo scopo di organizzare al più presto iniziative per valorizzare le attività associative e realizzare i fini cui l'Associazione tende. L'Associazione Laia presenta Voci di Legalità, esperienze di impegno istituzionale a confronto per il rilancio dell'educazione alla legalità. Mercoledì 28 marzo alle ore 10.30 presso il Cinema Bolivar a Marina di Camerota. Introduce il Presidente dell'Associazione Laia, Vincenzo Rubano, giornalista, saluti del Sindaco di Camerota Mario Scarpitta e del dirigente scolastico Rosanna Casalino. Interventi del Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, già segretario Commissione Parlamentare Antimafia, del Tenente Colonnello Antonio Grilletto, Comando Forze Operative Sud, il Colonnello Antonino Neosi, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, l'On. Antonio del Monaco, deputato alla Camera dei Deputati e conclude il sostituto procuratore del Tribunale di Vallo della Lucania, Paolo Itri, il magistrato che ottenne la condanna all'ergastolo per Totò Riina. L'iniziativa sarà ripresa dalle telecamere di Cilento TV, canale 607 del Digitale Terrestre.